Dal 17 settembre riapre la palestra per il viso su Facebook, quindi ritorniamo ad allenare settimanalmente i nostri visi per tonificarli, per modellarli e riavere di nuovo la salute e la giovinezza sui nostri visi o mantenerla se ce l'abbiamo già, le iscrizioni sono già aperte, per maggiori informazioni vai sul link che ho messo qui sopra. Io ti aspetto all'interno del Viso in Forma Group, ciao! Grazie per la visione!